Allora riprendiamo occupandoci del punto 2, io solo per non perdere questa query che avevamo realizzato in SQL, mi sono fatto per ora un metodo creagrafo 2, che dicevamo che ci portiamo a casa come compitino, quello di provare in modo diverso, ho incollato qua l'altra query solo per non perderla così almeno mi rimane nel progetto, ma invece adesso occupiamoci della parte ricorsiva. Allora cosa dice? Avendo fatto tutto ciò che abbiamo fatto, a questo punto l'utente può premere il pulsante Dream Team, il programma deve trovare qual è questo Dream Team, definito come? Il Team in generale, non il Dream Team, un Team è un gruppo di K piloti, dove K è una costante stabilita dall'utente con apposita casella di testo, che è questa qui. Quindi l'utente specifica K e dato un valore di K, in qualche modo definisce quelli che possono essere una serie di team potenziali che sono qualunque gruppo di K piloti, qualunque insieme, sotto insieme di K piloti. Un Dream Team, guardiamo il punto D, è un team di K piloti che abbia il minimo tasso di sconfitta, quindi vuole dire che devo esplorare tutti i possibili team di K piloti, per ciascuno di questi calcolare questo tasso di sconfitta e prendere il minimo. Cosa è il tasso di sconfitta? Lo definisce qua il punto C, il tasso di sconfitta di un team è definito come il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team. È contorto o male semplice, cioè noi abbiamo tutti i piloti, poi ne scegliamo K, diciamo tu sei un team, voi 4 siete un team, se K uguale a 4. Allora andiamo a contare quante volte un pilota del team, interno di questi 4 è stato sconfitto da un pilota non del team. Non mi importa se tra questi 4 il primo sconfitto è il secondo, queste sconfitte non contano, contano solamente, perché facciamo parte dello stesso team, contano solamente le sconfitte ricevute dagli altri piloti esterni al team. Quindi di fatto è come se voi vi immaginaste l'insieme di tutti i piloti, un sotto insieme che è il team e vado a vedere solamente gli archi a cavallo, che iniziano fuori e finiscono dentro questo insieme, questo sotto insieme. E devo calcolare il numero di vittorie di un qualsiasi pilota su un qualsiasi altro pilota appartenente al team. Quindi devo fare questa somma dei pesi degli archi essenzialmente, cioè gli archi entranti che entrano da un nodo che non appartiene al team verso un nodo che appartiene al team, prendo il peso e sommo questi pesi. Questo è il tasso complessivo di sconfitta di quel team. Ovviamente un team più forte avrà meno sconfitte, quindi avrà un tasso di sconfitta minore e quindi devo trovare qual è la composizione di questo team migliore. Questo lo posso fare con le informazioni che ho già nel grafo, non mi serve altro. Mi serve però impostare un algoritmo di ricerca che permetta di generare tutti i possibili insiemi di K piloti. Quindi dovrò avere, diciamo il metodo più di alto livello che cos'è? È un metodo del modello che restituisce una lista di driver, get dream team e basta, cioè non riceve parametri perché è, ah no scusate, K, data una certa dimensione. Poi tutto il resto la stagione la so già, il grafo lo conosco già, eccetera. Quindi dato il grafo che conosco e il K che mi viene specificato, trovare questa lista di K elementi. Allora devo ovviamente andando, facendo una ricerca alla cieca, devo andare a provare tutte le possibili combinazioni di K elementi. Quindi devo provare a prendere il primo, secondo, il terzo e il quarto, primo, secondo, terzo e quinto, primo, secondo, terzo e sesto e così via, in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora questo lo posso fare impostando una procedura ricorsiva che, ricordiamoci come ragioniamo sulle ricorsive, la soluzione totale, quindi il punto d'arrivo della ricorsione deve essere un insieme di 4 vertici. La soluzione parziale è un insieme di 0, 1, 2, 3 vertici minore di K. Quindi io costruisco delle soluzioni parziali aggiungendo ad ogni livello di ricorsione un vertice in più. Quindi io parto dal primo vertice, primo livello della ricorsione e mi chiedo qual è il primo componente del Dream Team? Provo il driver 1, il driver 2, il driver 3, il driver 4, li provo tutti. Secondo livello di ricorsione, io ho già un Team parziale, non è Dream, un Team parziale fatto dal 7 che ho scelto a livello 1 e a livello 2 mi chiedo qual è il secondo componente del Dream Team? E li proverò tutti tranne il 7, tutti i driver che non sono ancora nel team. Terzo livello di ricorsione, ho già due selezionati, il 7 e il 9 e dovrò trovare qual è il terzo driver. Quindi ad ogni livello di ricorsione io che cosa ho? Ho in ingresso la composizione di un Team e il mio scopo di ricorsione è quello di aggiungere un elemento a quelli che già ci sono, scegliendolo tra chi? Tra tutti coloro che non sono ancora stati scelti, che non fanno ancora parte del Team, cioè non voglio aver duplicato ovviamente. E quindi questo nella parte generativa della ricorsione in cui genero soluzioni. Poi nella parte terminale cosa succede? Io mi fermo quando il Team che ricorsivamente sto costruendo ha dimensione pari a K. A quel punto calcolo quel tasso di sconfitta definito in quel modo e confronto quel tasso di sconfitta calcolato per quel team specifico col tasso di sconfitta generale, cioè col tasso di sconfitta migliore che ho trovato finora. Se sì mi salvo la soluzione e vado avanti con la ricorsione, fino a quando non li trovo tutti. Allora, mettiamoci al lavoro. La prima cosa che abbiamo capito è che la procedura ricorsiva cosa riceve come parametri. Riceve un sottoproblema fatto da il passo, il Team noto finora che sarà, io lo indicherei come Set, visto che ci interessa prendere insieme di vertici, sottrarli, vedere che non siano compresi, è più comodo avere un Set che non una lista di driver, che è il team e ovviamente K mi servirà conoscerlo. Quindi questa procedura, commentiamola così, quindi questa procedura ricorsiva è ricerca. Allora, innanzitutto abbiamo in ingresso, ricevo il Team parziale composto da passo elementi. Il dimensione del Team parziale corrisponde al livello della ricorsione, ho il livello della ricorsione meno 1, vediamo un po' come fare. Possiamo dire che il passo 0 della ricorsione ho un set di 0 elementi, quindi passo, passo, parte da 0. Quindi il primo livello, quello che chiamo il primo livello della ricorsione lo identifico con passo uguale 0, anziché 1, solo perché così è più facile, perché passo 0 vuol dire che ho già 0 elementi e ne devo mettere uno in più, cioè il primo. Poi fate come volete però, è solo per chiarire le idee su che relazione c'è tra il numero di quale elemento devo aggiungere se sono al passo 3. Se sono al passo 3 vuol dire che ho già tre elementi e devo mettere il quarto. Dopodiché, nel caso terminale, è quando passo uguale K, giusto? Perché come abbiamo appena definito passo, se il passo vale K vuol dire che il set è fatto da K elementi vuol dire che è già un team della dimensione desiderata. Ed in quel caso va calcolato il tasso, com'è che chiamano il testo? Il tasso di sconfitta. altrimenti si procede ricorsivamente ad aggiungere nuovi vertici, un nuovo vertice, il passo più unesimo. Scegliendolo tra i vertici non ancora presenti nel team. Ok? Questa è la filosofia che stiamo cercando di mettere in campo in questa ricorsione. A livello di codice abbiamo i soliti blocchi. Prima di tutto controlla se sono in una condizione terminale. Quindi, siamo in un caso terminale? Abbiamo appena detto qual è la condizione che ci dice che siamo in un caso terminale se passo uguale K. se passo uguale K allora devo calcolare questa cosa qua e eventualmente aggiornare il massimo. quindi c'è scritto calcolare tasso di sconfitta del team e eventualmente aggiornare il minimo. ci torno dopo a questo. Invece se non sono nel caso terminale, quindi un bel else, sono nel caso normale e quindi devo selezionare il prossimo vertice. So che passo è minore di K e quindi devo scegliere il prossimo vertice. Il prossimo vertice lo scelgo tra tutti i vertici che non sono ancora parte del set. Come faccio a farlo? Beh, posso avere un set di driver candidati, candidati ad essere aggiunti al set uguale new set di graph.vertexset. New set al set. Mi faccio una copia del vertex set perché da questa copia tolgo quelli che sono già nel mio set. quindi candidati punto remove all team. e a questo punto questo set di candidati sono tutti e soli quelli che devo provare ad aggiungere uno a uno. Quindi for driver di due punti candidati. A questo punto faccio ricorsione e poi backtracking. rimetto le cose a posto. Quindi ricorsione significa team.add di D, aggiungo l'elemento D al team, ricorsiva, di passo più 1 team K. E poi come dicevo backtracking rimetto le cose a posto. Remove DD. rmu. Sì, allora l'alternativa, io così facendo mi sono prima calcolato quali sono i candidati e poi uno per uno provato a testarli. l'alternativa sarebbe stato fare un ciclo qua direttamente sul vertex set e poi dentro il ciclo fare un if not contains. se questo D non è contenuto dentro set allora faccio dal punto di vista logico equivalenti. nel caso in cui la condizione sia un po' complicata se io me la gestisco a parte lavorando con i set forse è un pochino più chiaro. e direi che dovrebbe bastare così direi. quindi possiamo provare a vedere, fare una cosa molto brutta, mettere un print line qua, vediamo se sta generando le cose che ci servono. se ti sto facendo girare la ricorsione dico quando arrivo al caso terminale anziché a fare tutti i conti semplicemente stampo cosa ho trovato. però nel frattempo sto motore di ricorsione va avanti e li dovrebbe generare tutte. io quindi dovrei vedere tutte le possibili coppie o terne o quaterne di piloti. ovviamente e quindi poi dopo andiamo a sistemare il caso terminale. il caso terminale è un po' noioso perché devi fare tutto quel conto lì con gli archi, con i pesi. però prima siamo sicuri di generare i team bene, una volta che teniamo di generare i team bene il resto è codice palloso ma non più difficile, non più difficile. però per poterlo testare dobbiamo dare il lancio alla ricorsione. farò partire la prima volta. allora l'avvio della ricorsione si ha, vabbè devo passargli il passo 0, un set iniziale vuoto e k. quindi inizialmente devo creare il set set di driver team uguale new hash set vuoto e quindi la prima volta posso chiamare la ricorsiva passo 0, il team che ho appena creato e il k che mi siete dato come parametro. ritorno, ritorno null per il momento così ho un errore di compilazione, poi ovviamente qua devo ritornare il team migliore. allora questo è un metodo che già potremmo chiamare dal controller direi, quindi torniamo nel controller dove c'è un metodo trova dream team da cui devo estrarre ovviamente il valore di k. quindi avrò string ks k string uguale txt input k si chiamava così quella casella get value. ah get text scusate non get value, è una casella di testo. e poi devo estrarre il valore di k con un parse integer.parseint di k stringa e verificare che questo genera una, me lo dimentico sempre, number format exception. nel caso in cui ci sia number format exception vuol dire che questa stringa non andava bene e quindi stamperò un messaggio d'errore. parla n chiuso virgolette ed esci. altrimenti k è una roba buona e potrei controllare che sia positivo ma concentriamoci sulla discorsione. k è valido e quindi posso chiamare model.get dream team di k. va bene. hai ragione, così. ok? allora vediamo cosa succede. al momento quando cliccheremo su questo la ricorsione dovrebbe partire e stamparmi sulla console se è k uguale 2 le coppie di driver. così verifichiamo che faccia la cosa giusta. allora anche qua apriamo un po' la console scelgo, chissà perchè mi viene a essere il 2 2015 mettiamo k uguale 1 dovrebbe funzionare a questo punto il team dovrebbe essere fatto da un pilota solo e infatti ciò che mi stampa sono dei set ciascuno fatto da un pilota solo che dovrebbero essere tutti i piloti dell'anno. se scelgo invece un team da due rilancio la ricorsione e mi genererà molto più roba con tutte le coppie di piloti. non stupitevi che ci siano queste cose qua in mezzo cioè questo era carino perchè Hamilton era sempre il primo copiato da altri poi in questo secondo vedete che c'è Sainz e perchè al contrario è semplicemente perchè è un set quindi l'ordine degli elementi non è detto che sia in qualche modo conservato però ci sono tutte le coppie se erano 23 o di lì i piloti le coppie sono 23 per 22 chiaramente sono di più se io vado su 3 mi stamperà tutte le terne l'importante è che non ci siano mai ovviamente gli elementi duplicati ovviamente questo crea dei duplicati, cioè rimettiamo il 2 perchè quando noi abbiamo da qualche parte l'insieme Hamilton-Sainz sono pronto a scommettere che più avanti ci sarà di nuovo perchè ci sarà di nuovo? perchè quando faccio io la ricorsione scelgo il primo con tutti gli altri quindi scelgo il primo e il secondo poi quando torno indietro alla ricorsione sceglierò il secondo e poi sceglierò tutti gli altri compreso il primo quindi si ripeterà non lo trovo ma c'è di sicuro sono pronto a scommetterci Hamilton-Merky vedi che Hamilton salta fuori vabbè c'è quindi in realtà la ricorsione è un pochino sovrabbondante perchè mi crea tante volte lo stesso set non ho qua un criterio per poter sparigliare aggiungo solo un elemento se potrei farlo potrei pensarci potrei pensare di ottimizzarlo più avanti per evitare di prendere nel caso delle coppie sia la coppia AB che la coppia BA nel caso di 2 normalmente si mette una condizione di appunto asimmetrica del tipo l'ID del primo e maggiore dell'ID del secondo e quindi automaticamente evito di prendere due volte la stessa coppia nel caso in cui siano più di 2 come generalizzare questa condizione di asimmetria non è solo una riga di codice quindi eventualmente ci pensiamo dopo torniamo indietro la ricorsione quindi genera questi set adesso il lavoro che rimane da fare è qua calcolare il tasso di sconfitta del team int tasso uguale dis.tasso sconfitta team lo metto in un altro metodo perché là sarà un casino e poi eventualmente aggiorna il minimo aggiorna il minimo vuol dire che quindi devo avere una variabile che mi rimane quindi una variabile di questo metodo una variabile che memorizza nel modello direttamente che si ricorda qual è il team migliore che ho visto quindi se a questo punto avrò tasso è minore del tasso best chiamiamolo così o tasso min così ci ricordiamo che è un minimo allora aggiorno il tasso minimo al tasso di sconfitta attuale e mi salvo qual è il team che ha costituito questo tasso minimo quindi il team minimo uguale new array list di team crea una nuova lista partendo dal team attuale poi mi dice ma perché una lista non un set ma perché poi alla fine devo restituire una lista al mio controllore quindi visto che il best mi serve questo team minimo non mi serve per restituirlo al controllore tanto vale che me lo salvi già in una forma che è pronta per essere restituita allora questo tasso min e team min ovviamente sono variabili che devo definire all'inizio del modello quindi sono le variabili di stato della ricorsione che sono il tasso min e lista di driver team min queste variabili le definisco dentro il modello ma quando parto quando lancio la ricorsione dovrò avere inizializzate ogni volta ai valori opportuni quindi questo nella get dream team prima di lanciare la ricorsione devo impostare il tasso minimo ad esempio integer.maxvalue sto calcolando un minimo quindi inizializzo la variabile a un valore grosso e invece team minimo null così la prima volta che arriverò al caso terminale sarò sicuro che il tasso calcolato per questo team è minore del minimo e quindi team min verrà al posto del null ci metto un team effettivo ok quindi queste due variabili il tasso minimo lo inizializzo al massimo il team minimo vabbè ci metto un null eventualmente per cancellare quello della volta precedente per non averlo tra i piedi prima di iniziare la ricorsione queste sono variabili che sono variabili di distanza del modello quindi sono sempre le stesse tutte le procedure ricorsive condivideranno sempre le stesse variabili alla fine della ricorsione queste variabili ci sono ancora e quindi posso usarle per restituire la composizione del team minimo cioè team di sconfitta minima di tasso di sconfitta minima per restituirla dicevo al controller allora tutte le parti intelligenti le abbiamo fatte ci rimangono le parti noiose che sono il metodo tasso di sconfitta allora creiamo questo metodo maledetto allora private int tasso di sconfitta set di driver cosa devo calcolare? allora devo calcolarmi tutti gli archi fare la somma dei pesi ok di tutti gli archi il cui vertice di partenza sia un vertice esterno al team quindi non appartenente al team e il cui vertice d'arrivo sia un vertice interno al team se è così prendo i pesi allora c'è 160 modi diversi di farlo probabilmente uno più semplice dal punto di vista del numero di codice è iterare sugli archi sono tutti gli archi del grafo e di ciascun arco mi chiede senti ma tu nodo di partenza vertice di partenza del grafo vero che non sei nel team e tu vertice d'arrivo vero che sei nel team se si ti sommo il peso e così non devo impazzire fare il doppio loop sui vertici se quello che mi serve è sommare archi iter sugli archi quindi proviamo così mi serve int tasso uguale 0 devo incrementare sta roba per tutti default weighted edge gli archi del mio grafo in ordine qualsiasi mi arriva in un edge set ma io a questo punto vado a controllare mi serve il tuo peso se get edge source di e questo è il vertice di partenza se questo vertice di partenza non è nel team quindi not team punto contains di lui se il team non contiene il vertice di partenza e il team invece contiene il vertice di arrivo get target source get edge target ecco qua allora questo arco mi serve perché è un arco che va parte dall'esterno del team e arriva all'interno del team in questo caso il grafo scusate è un grafo orientato quindi non ho confusione tra edge e target è ben chiaro chi è il source chi è il target se fosse un grafo non orientato una cosa del genere sarebbe più complicato da fare perché sapete che in un grafo non orientato il source e il target sono intercambiabili quindi devi sempre ogni volta chiederti da che parte sta ma in questo caso direi che basta questo allora questo è un arco di quello di quelli che mi interessa non è una sconfitta tra due driver esterni al team e neanche una sconfitta tra due driver interni al team è una sconfitta di uno dei membri del team da parte di uno dei non membri del team allora in questo caso questo va a aumentare il tasso di sconfitta quindi il tasso lo incremento di una quantità pari al peso di quest'arco qui che ho appena trovato non graff graff punto get edge edge weight d e return tasso allora che complessità sta roba qua? quanto tempo ci perdiamo lì dentro? ci perdiamo un tempo proporzionale al numero di archi totali del grafo che non è il numero di vertici al quadrato perché noi gli archi li mettiamo già solo dove c'è il peso diverso da zero dove c'è il numero di confitti diverso da zero se uno volesse forse prende una soluzione forse dico eh bisogna testarla un pochino più veloce potrebbe ragionare potrebbe ragionare col fatto che il team è piccolo e quindi presumibilmente il numero di vertici nel team è molto minore del numero di vertici fuori dal team e allora io potrei pensare di iterare sui vertici del team e per ciascuno di questi andare a prendere gli archi entranti allora probabilmente considererai meno archi in totale però poi c'è il codice più complicato quindi magari il tempo lo perdo lì ma questo dovrebbe insomma dal punto di vista funzionale essere a posto allora questo dovrebbe permettere a questo caso terminale di funzionare io magari sposto questa print line qua sotto così mi stampo solamente il team e il peso il tasso min più spazio più team.toString più a capo no print line mi da già capo da sola mi faccio stampare via via che trova qualcosa di migliore così vedo la progressione della ricorsione e poi a questo punto posso anche dove è la cosa lui che non gli piace qui un punto e virgola vuole e poi vado ancora nel controller a questo punto a ottenere questo risultato e eventualmente stamparlo cioè visualizzarlo nell'interfaccia in team punto toString più a capo così in modo molto brutto per un momento ma vediamo un po' cosa succede allora apriamo la console prendiamo il 15 dimensione ricappa partiamo da 1 allora lui è partito da alcuni archi ha provato diversi vedete che qua non ci sono più tutti i team da 1 che abbiamo prima li avevamo stampati tutti qui stampiamo solamente quelli che migliorano il best quindi vedete che il peso via via decresce fino a trovare Hamilton che è quello il team da 1 migliore è fatto da Hamilton che guarda caso è il migliore dell'anno non è detto che debbano coincidere per forza perché qui calcoliamo solamente sconfitte invece per prendere il pilota migliore calcoliamo anche le vittorie quindi invece il team da 2 migliore qual è? è fatto da Rosberg e Hamilton il team da 3 migliore Rosberg, Vettel e Hamilton 4 ci mette già un po' di più ci ha messo anche dentro Raikkonen 5 qui siamo nella ricorsione quindi ogni volta che salgo di 1 aumento in questo caso moltiplico per 5 il tempo 6 non lo provo e alla fine trova un team da 5 cambio la stagione vediamo che funzioni il pilota migliore 67 è questo vabbè sono dei piloti che non conosciamo ma ok ok allora questo commentiamo questa stampa qua che ci da solo fastidio dove ero nel model dove ero nel model dove il cuore il cuore è ovviamente fatto da queste 3 righe qui è la parte più di calcolo e l'abbiamo delegata a questo metodo tasso di sconfitta se volessimo rendere questo più veloce e più efficiente vabbè o potremmo andare a misurare quanto tempo ci mette la tasso di sconfitta a vedere se farla un pochino più rapida però non più di tanto perché questa viene chiamata solamente ricordate alla fine della ricorsione la maggior parte del codice invece passa di qua qua non c'è molto da ottimizzare uno potrebbe dire ma se metto l'if not contain se più veloce del remove all non lo so possiamo provare però sarà una differenza probabilmente di qualche percentuale ciò che farebbe veramente la differenza sarebbe abbattere il numero di chiamate ricorsive cioè l'efficienza qua la faccio non tanto andando ad ottimizzare la singola funzioncina o il singolo ciclo ma cercando di ridurre il numero complessivo di chiamate un esempio è quello che dicevamo abbiamo già notato che lo stesso set viene chiamato più volte allora come facciamo a evitare che se io ho un set fatto da A, B, C più tardi crei un set fatto da B, A, C che in realtà è lo stesso set perché il set di permuto in realtà il genero in ordine è diverso ma il set è sempre lo stesso allora potremmo avere un criterio in più in cui aggiungi un elemento di asimmetria immaginatevi i set di quattro elementi i set che contengono tutti i set che contengono gli stessi quattro elementi ok? quindi abbiamo quelle quattro ragazze lì e le mescoliamo in tutti i modi possibili a noi non interessa avere tutti i rimescolamenti possibili ne dobbiamo scegliere uno allora c'è un modo di costruire il set in cui dopo che hai scelto la prima persona la seconda venga in modo univoco allora potrei farlo ad esempio avendo un attributo poi pensiamo quale crescente che so il driver ID è un numero allora io posso decidere che nella mia ricerca vado a prendere solamente i candidati che hanno un driver ID maggiore del candidato precedente ok? quindi se io qui inserisco 20, 22 e 30 che erano i due l'esempio precedente il 30 dopo che ho inserito il 22 il 30 lo posso considerare perché è un driver ID maggiore ma se invece come primo ho messo 30 io il 22 non lo considererò mai ok? questo si può fare però richiede una certa modifica al nostro codice di due tipi uno anzitutto bisogna usare una lista e non un set qua perché? perché ho detto io devo aggiungere un candidato che abbia l'ID il driver ID maggiore dell'ultimo candidato che ho inserito di quello alla sua sinistra e per sapere qual è l'ultimo il penultimo mi serve l'ordine con cui ho inserito i candidati non è più un set oppure mi serve un parametro in più che mi dica qual è l'ultimo che ho inserito perché altrimenti dal set non posso dire con chi ti confronto dovrei confrontarti con tutti ma allora sto perdendo tempo anziché guadagnando quindi devo un attimo fare attenzione perché adesso non sono in grado di dire quando sono in un certo livello della ricorsione al passo precedente chi ho messo e quindi non so con chi confrontarti questa è la prima modifica la seconda modifica è qua a questo punto avremo un secondo tipo di caso terminale che è quello in cui non riesco a comporre il team cioè io adesso sono sempre sicuro di riuscire se K è minore del numero di driver sono sempre sicuro di metterne 4 K perché non ho condizioni ma se invece cominci a mettere le condizioni sull'ordine allora se io i primi 3 casualmente avevo già i driver di massimi i 3 più grossi come numeri e il quarto non lo troverò perché non troverò nessun driver non ancora preso che abbia un driver di maggiore dell'ultimo fine e allora la ricorsione può anche terminare prima che il passo sia uguale a K cosa devo fare in quel caso? niente cioè niente nel senso proprio di non far niente ritorno a su e basta però devo intercettarlo come caso per evitare di dover andare avanti all'infinito a cercare di inserire un elemento che non c'è quindi se volete provare a giocarci per vedere se uno riesce a salire da 5 o 6 dal team infatti di 5 o 6 elementi al team di team più grandi una delle direzioni possibili la prima che proverei a esplorare è questa perché mi permette ad esempio con un dream team da 5 di ridurre il numero di chiamate ricorsive di 5 fattoriale che sono tutte le permutazioni da 5 quindi 120 volte un dream team da 6 me lo dice di 6 fattoriale mi rimane sempre fattoriale tutto ma perlomeno di un gradino in meno questo però ovviamente in sede di esame non ci interessa ok? perché non possiamo immaginare di avere tutte le ottimizzazioni possibili la cosa importante è avere l'algoritmo ben impostato e funzionale che arrivi al risultato su casi piccoli l'esercizio io lo darei per terminato per una volta nell'anno ho finito 10 minuti prima quindi se avete domande potete farmene altrimenti vi regalo questo quarto d'ora e va per tutte le volte che vi fate arrivare in ritardo il resto dell'anno va bene allora chiudiamo qua grazie